Non c'è chiarezza sulle percentuali che spettano ai professionisti, architetti in particolar modo, in questo momento quando si vanno a realizzare opere pubbliche. Questo, in estrema sintesi, il grido d'allarme lanciato dalla Federazione dell'Ordine degli Architetti. Cosa non va di Marcello? In realtà il Governo, con una norma precisa, ha stabilito le tariffe minime di riferimento per le opere pubbliche, per i servizi di progettazione, il famoso decreto parametri, al quale con le ultime modifiche tutte le amministrazioni devono fare riferimento per poi fare gli importi da porre a base di gara. La Regione Abruzzo, ahimè, ultimamente con il Buster, ma in tutte le linee di finanziamento, invece stabilisce delle percentuali non giustificate che vanno dal 3,5% all'8% sull'importo dei lavori che spesso non coincidono con le somme poi definite col decreto parametri. E quindi ci troviamo a una sottostima delle prestazioni professionali che non può che andare a discapito poi della qualità delle stesse. E a questo punto cosa dovrebbe fare il Governatore? Allora, a questo punto l'ennesima nota questa volta della Federazione, non solo dei singoli ordini, che fa seguito poi a un ricorso al TAR verso un bando specifico, ma ce ne saranno altri se non si porre riparo, il Governatore dovrebbe modificare la convenzione del Masterplan e soprattutto fare una circolare e finanziare gli enti locali per le somme giuste, quelle definite dal decreto parametri. Questo è un problema per voi perché tutto sommato è già difficile poter ottenere i pagamenti delle prestazioni dovute e poi naturalmente anche l'importo del quantum diventa incerto. Certo, bisogna dire che anche a livello nazionale c'è questa sottostima della prestazione tecnica che viene definita quasi un accessorio dando più importanza all'opera, invece la prestazione tecnica è la base di una buona opera. Ultimamente il Comune di Catanzaro ha messo a base di gara un euro un piano regolatore generale e il Consiglio di Stato l'ha ritenuto giusto, parlando di utilità ulteriori rispetto a quelle economiche. Gli architetti sono lavoratori, gli architetti tecnici sono lavoratori come tutti gli altri, gli altri hanno diritto un equo compenso, non più di quello che li spetta ma il giusto.